ciao sono michele e questo corso si chiama equipaggiamento video è un corso intensivo dove guardiamo tutto l'epipaggiamento video come si usa a cosa serve e soprattutto cosa ti serve per iniziare a fare bellissimi video sono un videomaker e ho dieci anni di esperienza nella realizzazione di video tra londra e milano ho lavorato a tantissimi progetti ho fatto tantissimi video aziendali corporate video musicali poi guardare il mio cv e scoprirai che ho fatto veramente tantissimi lavori e in questi anni una delle mie grandi passioni era comprare equipaggiamento io sono molto affezionato a tutto l'epipaggiamento che ho e credo sia un ottimo modo per sperimentare e trovare sempre nuove tecniche e sempre nuovi modi di fare delle riprese per questo motivo ho creato un corso dove si guarda tutto l'epipaggiamento che ho e così anche te potrai imparare qual è la scelta giusta che devi fare quando devi comprare l'epipaggiamento l'epipaggiamento è veramente importante perché ci aiuta a fare delle tecniche e dei movimenti di camera particolari piuttosto che a creare delle riprese che hanno un certo fascino e un certo impatto per questo motivo noi guarderemo su questo tavolo tutte le diversi tipi di equipaggiamento e lo guarderemo da tre punti di vista differenti il primo punto come funziona e a cosa serve guarderemo infatti come ogni equipaggiamento che ho ti può essere utile per realizzare dei bei video secondo punto guarderemo a quanto costa e quali sono i brand migliori se tu devi comprare uno di questi ripaggiamenti infatti non necessariamente io il migliore della migliore marca ma guarderemo insieme compareremo quali sono le marche migliori qual è l'epipaggiamento che fa al caso suo terzo punto capiremo quanto è importante questa tipologia di equipaggiamento nel senso ci sono alcune cose che sono prioritarie e alcune cose che potremmo comprare anche dopo quindi attraverso questo corso capirai quali sono gli strumenti che ti servono per iniziare e quali invece puoi comprare in un secondo momento tramite questo corso imparerai veramente un sacco di cose perché guarderemo esempi pratici di come questo equipaggiamento viene utilizzato e avrai un'idea chiara e complessiva di quali sono tutte le strumentazioni professionali per realizzare dei video sia con videocamere che con macchine fotografiche credo che questo corso sia perfetto per chi è alle prime armi e ancora non conosce tutto l'epipaggiamento ma anche per fotografi e marketers i fotografi per esempio lavorano già da anni con macchine fotografiche ma magari non hanno una visione complessiva di tutto l'epipaggiamento che può avere un videomaker infine i marketers persone che vogliono produrre dei bei contenuti guarderemo insieme microfoni audio e videocamere stabilizzatori treppiedi tutto quello che ti serve per iniziare a fare i video se te e la tua azienda avete bisogno di comunicare online con dei bellissimi video ti invito a vedere l'introduzione del corso e tutta la scaletta per vedere se anche a te ti interessa capire tutto l'epipaggiamento come funziona come lo potremmo usare e soprattutto come facciamo a realizzare dei bellissimi video iniziamo ciao ciao ciao